Una collaborazione tra pubblico e privato che ha funzionato bene e che durante la pandemia ha persino permesso di scorciare le liste di attesa per la chirurgia in alcune specializzazioni. Al centro chirurgico toscano è stato operato in questi giorni il millesimo paziente che arrivava dall'ospedale San Donato di Arezzo. Dottor Tenti, nel momento in cui ricorre davvero questo brutto anniversario con i primi casi di coronavirus nel nostro paese, voi avete tagliato un traguardo, mille pazienti operati qui alla vostra clinica che vi arrivano dalla sanità pubblica, quindi dall'ospedale San Donato. Questa collaborazione ha funzionato? A me pare proprio di sì, ovviamente bisogna sentire anche i colleghi e i dirigenti dell'ospedale pubblico, dell'ospedale San Donato, ma spero di poter parlare anche per loro, sì ha funzionato. Non abbiamo mai litigato, l'ho detto anche altre volte, mille persone inviate che sarebbero dovute essere operate all'ospedale, non lo sarebbero state a causa di vari problemi. Più importante ovviamente è il covid che imponeva un minore affollamento dell'ospedale, poi come sappiamo la carenza di anestesisti. Insomma, ad Arezzo, per quanto ne so io, le liste d'attesa per gli interventi chirurgici sono addirittura diminuite in epoca di covid, mentre nel resto d'Italia si sono straordinariamente allungate. Quali pazienti sono arrivati in senso di patologie dal San Donato alla vostra clinica? Dunque, nel precedente lockdown, quello che è andato da marzo a giugno del 2020, avevamo tutta la specialistica chirurgica, compreso le urgenze, la robotica, l'urologia, l'otorino, la chirurgia vascolare e la ginecologia. In questa seconda fase stiamo operando i pazienti che richiedono interventi di ortopedia, sempre chirurgia vascolare, sempre urologia, sempre ginecologia. Certamente il centro chirurgico toscano è accreditato in Commission International, questo ci ha permesso negli anni di fare un percorso mettendo al primo posto appunto la qualità e la sicurezza delle cure per quanto riguarda i pazienti. In questa fase tutto questo ci ha permesso di lavorare bene ed in sicurezza anche con i pazienti che provengono dall'ospedale. Un traguardo dunque importante che non ha determinato un costo in più per la cittadinanza. Esatto, ovviamente fare questi interventi è un costo, è normale. I costi però di questi interventi sono stati sopportati dalla USL ma all'interno del budget già precostituito per noi negli anni passati. Cioè a dire abbiamo operato meno pazienti provenienti da fuori dalla regione toscana e con i soldi risparmiati per non avendo operato questi pazienti la USL ha pagato i suoi pazienti. Quindi per le casse pubbliche la spesa non è variata di una lira.